Buongiorno ragazzi e ragazze, sono qui con i vostri amici del Movimento Giovanile Salesiano e mi chiedono un salutino per tutti voi in questa nostra Europa e con tanta iodia, con vero interesse vi dico che sono molto contento di questa realtà del nostro Movimento, credo che si fa un bel lavoro, mi piace tanto, tantissimo che siete voi i giovani che vi trovate al frente del nostro Movimento e come ieri ho detto in una piccola riunione, allo stesso tempo con la nostra compagnia, le sorelle, le fratelle CDB, i Salesiani Cooperatori, perché credo veramente che è importante il nostro cammino insieme, carissimi giovani. Ieri dicevo anche questo, il nostro Movimento non è soltanto un movimento di animazione, un movimento per giocare e soprattutto un movimento dei giovani, per i giovani, dove credo veramente che sempre e in primo luogo deve essere il Signore Gesù, come Don Bosco faceva con i suoi giovani di Valdoco. Credo veramente che è una verissima esperienza per aiutare altri giovani che non hanno l'esperienza che voi avete vissuto a fare giustamente questa esperienza di animazione, di senso della vita, del Signore Gesù nella nostra vita. Vi auguro un buon lavoro, vi auguro un buon percorso in questi mesi, in questi anni. Vi dico a tutti voi grazie per il vostro compromesso e allo stesso tempo vi dico, come ho detto ai giovani animatori della Spagna qualche giorni fa, Don Bosco sicuramente vi direva oggi, carissimi giovani, io ho bisogno di voi per andare all'incontro con i tanti giovani del mondo, perciò grazie per la vostra amicizia, per la vostra disponibilità, per il vostro compromesso. Come dice Papa Francesco, dobbiamo andare giustamente alla periferia, periferia e all'incontro veramente di quelli che hanno bisogno della nostra presenza e del nostro condividere. Grazie a tutti, coraggio e forza con il nostro movimento giovanile salisiano. Che Don Bosco e soprattutto il Signore Gesù vi benedica a tutti. Ciao carissimi, ciao.